Il Comune rilancia i musei cittadini e comincia da quelli del circuito MIBAC, Ministero per i beni e le attività culturali, che a Napoli è responsabile delle principali strutture museali dall'archeologico a Capodimonte, da San Martino al Palazzo Reale. Napoli può vantare un patrimonio di straordinaria entità ed è essenziale che le istituzioni promuovano la scoperta di questa mirabile ricchezza a beneficio dei cittadini e dei turisti e che lo facciano non tanto con l'eccezionalità dei grandi eventi ma con attenzione quotidiana alla bellezza e alla conoscenza. È una prima tranche di lavoro che affrontiamo insieme ai grandi musei del Ministero della città di Napoli, un'idea del turismo che fonda sui beni culturali, sull'esistente della città. In più in particolare oggi lanciamo alcuni bandi di idee per la realizzazione di walking tour e visit tour attraverso minibus dei percorsi museali nell'ambito del periodo dell'America S.C.A.P. affinché possano arrivare idee di attività da legare all'evento e promozionare i siti museali importanti. Fra le occasioni di promozione il prossimo 14 febbraio per San Valentino sarà possibile entrare in coppia nei musei con un solo biglietto, mentre per tutto l'anno varrà l'iniziativa L'Arte ti fa gli auguri con ingresso gratuito nel giorno del proprio compleanno. Per la Coppa America in programma ad aprile a Napoli la sezione navale della Certosa di San Martino sarà arricchita con un allestimento d'occasione. Si tratta di una sezione navale che è una delle collezioni navali più importanti del mondo direi, che contiene tre grandi galè tra cui il caicco turco donato da Selim III a Ferdinando IV, la lancia di Umberto I e la grande nave da parata di Ferdinando IV di Borbone. Per l'occasione dell'America S.C.A.P. avremo in prestito dalla regia di Caserta ha quattro vedute di Hackert, di Filippo Hackert, delle vedute famose dei porti del Regno di Napoli. I musei di Napoli hanno delle sezioni al loro interno di importanza e di grande rarità. Questa della sezione navale è una, ma forse non tutti i napoletani sanno che per esempio, ma è proprio a titolo di esempio, la floridiana ha al suo interno la collezione di ceramiche di Maissen più importante del mondo dopo quella di Maissen, oppure una collezione di ceramiche cinesi e giapponesi tra le più importanti del mondo e così via. I musei napoletani hanno dei tesori veramente infiniti.